METEO NEL SULCIS ALLARME RIENTRATO Benvenuti all'appuntamento con l'informazione su canale Apriamo il nostro telegiornale con il maltempo Si è ridotto nel sulcis iglesiente il livello di criticità del rischio idrogeologico Anche se in molti comuni le scuole anche oggi sono rimaste chiuse Sentiamo il servizio Allarme rientrato Ieri pomeriggio il nuovo bollettino della protezione civile Ha comunicato la riduzione nel sulcis iglesiente Del livello di criticità sul rischio idrogeologico E ieri nel corso di tutta la giornata Non si è registrato nessun danno e nessuna emergenza I centri operativi di Carboni e Iglesias Hanno monitorato costantemente la situazione Per prevenire qualsiasi rischio E dopo la notizia diffusa dal bollettino I sindaci di diversi comuni Hanno revocato le ordinanze di chiusura delle scuole Invece i sindaci dei comuni di Trattalias, Narcao, Perdagius, Santanaresi Hanno comunque deciso di tenere chiuse le scuole Previa precauzionale E anche per le condizioni particolari In cui sono localizzati dal punto di vista geografico Alcuni comuni In molti centri del territorio Volontari e operai Hanno pulito caditoi e tombini Per evitare allagamenti delle strade A causa delle precipitazioni Ci spostiamo adesso a Bacquabis Dove alcuni cittadini denunciano L'assenza dell'amministrazione comunale nel paese Strade dissestate Mancanza di una pensilina Scarsa manutenzione delle aree verdi pubbliche Sono solo alcuni dei problemi elencati dagli abitanti Sentiamo le interviste di Manolo Mureddu Secondo lei Bacquabis è ben rappresentata Dall'amministrazione comunale? No, secondo me no Per quali motivi? Perché noi siamo abbandonati Non fanno niente qui Qui non fanno niente Dovevano fare di più Ci hanno promesso che Facciamo un cantiere Invece non l'hanno fatto Quindi vi sentite abbandonati? Vedete com'è l'affare qua Ci sono Se vai quella via lì Sono tutte rotte le strade Qui uguali Anzi che l'hanno pulito L'hanno pulito Privati Se non c'è l'erba Arta un metro là C'è tanto da fare Tanto E potrebbero preoccuparsi molto di più di Bacquabis Ci sono molti problemi Sì Facciamo questa denuncia affinché L'amministrazione comunale O chi Ha la possibilità di farlo Prenda in visione i filmati E abbia la correttezza E la faccia Di venire qui a dare delle spiegazioni A un paese Che tutte le volte che ci sono le elezioni Contribuisce E non poco A mandare queste persone qui In maggioranza Ci sono varie problematiche Dall'assenza di una pensilina A le strade dissestate A i marciapiedi Che comunque hanno problemi A loro volta E anche la gestione Del verde pubblico L'attività scolastica È iniziata da un mese circa I ragazzi Fin quando fa bel tempo Ok Adesso che arriveranno le piogge Non hanno un posto per ripararsi Questa è la situazione Che è ripreso prima Noi chiediamo Che il comune intervenga Anche su questo problema Perché non è possibile Continuare così I ragazzi Devono trovare un riparo Aspettando il pulmo Non va bene Per quanto riguarda Il verde pubblico Pochi giorni fa La Sommica Ha fatto degli interventi Nella piazza circoscrizionale Però il paese È in una condizione Veramente vergognosa La regione chiede Ulteriore documentazione Ai lavoratori Euralumina Che ieri hanno effettuato Un nuovo presidio Davanti all'assessorato All'ambiente a Cagliari È arrivata una nuova richiesta Di integrazione dal SAVI All'Euralumina Nell'esame delle pratiche ambientali Per il riavvio della fabbrica Università e studi specializzati Sono già al lavoro Per elaborare le relazioni tecniche Ma ieri mattina Nonostante l'incessante pioggia E l'allerta meteo I lavoratori della fabbrica Di Porto Vesme Sono giunti a Cagliari Per un presidio Davanti alla sede Dell'assessorato all'ambiente La nuova mobilitazione È stata decisa Per rimarcare Il monitoraggio Del rispetto dei tempi Nell'iter autorizzativo Del progetto di riavvio Dello stabilimento In capo Dal servizio Valutazione D'impatto ambientale Della Sardegna Ora sarà necessario Altro tempo Per integrare Con le relazioni tecniche Sembra davvero assurdo Si legge in una nota Della RSU Che a 20 giorni Della riunione preliminare Dove si è fatta La conta Della documentazione E a 6 giorni Dall'avvio Della verifica ufficiale Vengano richiesti Ulteriori documenti Che invece di ridurre I tempi Non fa che accumulare Altri ritardi Ma noi Siamo rispettosi Del lavoro altrui E siamo certi Che le regole Ci siano per essere applicate Nell'interesse del lavoro Della salute E dell'ambiente Crisi internazionale Colpisce anche Glencore Al titolare Della Portovesme SRL Ma i vertici Della società Tranquillizzano Flussi di cassa Positivi E buona liquidità La crisi A livello internazionale Si riflette anche A livello locale Il titolo Glencore Come riporta questa mattina Il sole 24 ore Quest'anno Il più in ribasso Alla borsa di Londra Con un calo Del 70% Da gennaio La società Ha annunciato interventi Nel taglio del debito Per un ammontare Di oltre 10 miliardi E ribadito Di non avere problemi Di solvibilità Ma flussi di cassa Positivi Una buona liquidità La Glencore È titolare Dello stabilimento Della Portovesme SRL Che produce Del polo industriale Del sulci Spiombo e Zinco La crisi A livello internazionale Si riflette anche A livello locale Infatti lo scorso luglio L'amministratore unico Della fabbrica Carlo Lollier Aveva già annunciato Ai sindacati Le difficoltà Dell'azienda Dovute sia Al prezzo Dell'energia Ma anche Alla crisi Del mercato Mondiale Dei metalli L'amministratore Aveva sottolineato La riduzione Degli investimenti Per il 2015 E le modifiche Del budget Per il 2016 Precisando Che queste azioni Non erano Comunque sufficienti Per stare al passo Con i competitors Diretti La crisi Ha determinato Anche un calo Delle commesse Coinvolgendo Le dite d'appalto Nelle quali Sono già state Fatti dei tagli E proprio in questi giorni La Portovesme SRL È in corso Una protesta Che riguarda Circa 50 lavoratori Che lo scorso luglio Sono passati Dalla storica Dita di Bartola Ad una nuova società La GSI La protesta Nasce dal fatto Che i lavoratori Nella nuova impresa Non hanno avuto Le stesse condizioni Economiche E contratuali Maturate Nella precedente dita Ieri mattina In una follata Assemblea Degli operai Degli appalti Sono state decise Quattro ore Di sciopero Per martedì prossimo Nei giorni scorsi Era stato organizzato Un sitin A Sant'Antioco Per sollecitare Le bonifiche Nelle aree Dell'ex Sardamag Ora Il consigliere regionale Di Forza Italia Ignazio Locci Chiede Con una lettera L'intervento In prima persona Del presidente Della regione Francesco Pigliaru Per sbloccare I lavori Di infrastrutturazione Previsti dal piano Sulcis Per l'isola Di Sant'Antioco Il consigliere regionale Ignazio Locci Del gruppo Forza Italia Sardegna Ha inviato una lettera Al presidente Della regione Francesco Pigliaru Con la quale Chiede il suo autorevole Intervento Affinché si sblocchino I lavori Di infrastrutturazione Previsti per l'isola Di Sant'Antioco E indicati Nel piano Sulcis Lavori che Al di là Della recente Rimodulazione Delle risorse 10 milioni In più Per il nuovo Ponte E 5 Per la circonvallazione Sant'Antioco Calasetta Non possono partire Se non si svolgono Prima le operazioni Di risanamento Delle aree Ex Sardamag E dalle bonifiche Di quegli ettari Di terreno Che può ripartire L'economia Del territorio Si legge Nella lettera Che l'OCI Ha indirizzato Al presidente Poiché La circonvallazione Attraverserà Le aree Ex Sardamag E il nuovo collegamento Avrà bisogno Quanto meno Di una porzione Di quelle superfici Ed ecco che A questo punto Si ripresenta Il solido nodo critico Continua l'onorevole IGEA È titolare Delle deleghe Per gli interventi Di risanamento ambientale E nonostante essa Sia un'azienda sana Non può comunque Operare Per la mancanza Di fondi Ma non c'è Solo IGEA Ad accumulare ritardi Anche l'ANAS Infatti È fra i titolari Delle deleghe Per la viabilità Quest'ultima Denuncia Loci Fa registrare Ritardi non indifferenti Per la parte Di sua competenza Ma la controllata Regionale Conclude il consigliere Benché miracolosamente Risanata E a corto di fondi È impossibilitata A svolgere le proprie Mansioni Per tale motivo L'onorevole Loci Ha richiesto L'impegno In prima persona Del governatore Oggi 2 ottobre È la festa Dei nonni Una ricorrenza Che in Italia Si celebra Dal 2005 Ma cosa Rappresentano I nonni Per le nuove Generazioni Lo abbiamo Chiesto Ai nonni Dell'associazione Terza età Di Carbonia Questa sera Nella loro sede Di Via Lazio Hanno organizzato Una grande festa Che cosa Rappresentano Oggi Nonni Per le nuove Generazioni I nonni Sono Prima di tutto Una spalla Sia per i nipoti Che per i genitori Sono i compagni Di giochi E sono il giocatolo Anche dei nipotini Noi oggi Siamo diventati Gli amici Gli educatori Gli educatori Sono i genitori Sono loro Che devono dare L'educazione Lui li dobbiamo Solo Non dico Accontentare Però Più in quella In quella linea Lì Più che Educatori Ecco Diciamo Un sostegno Per i nipoti Ecco Essere nonno Significa anche Stare al passo Con i tempi E quindi Anche Documentarsi Su quelle che sono Le nuove tecnologie Su questo Campo Come siete? E certo Anche noi adesso Tramite computer Telefonini Un po' Nei telefonini Qualcuno che ce l'ha Più grande Io ne ho uno Di cinque anni e mezzo Già nelle fotografie Mi insegna a lui Come devo girare Come devo sfogliare In altre cose Stiamo cercando In pratica Di imparare Perché Dobbiamo essere ai tempi Anche con loro Perché quando ci fanno Certe domande Poi rimaniamo in imbarazzo Io non ho avuto Non ho avuto i nonni Quindi Mi trovo anche molte volte In imbarazzo Come si sono comportati Gli altri nonni Quindi cerco di adeguarmi Ascoltando anche Gli altri nonni Ma il nonno Vizia i nipoti Altro che Se si li vizia Altro che Caspita Sì sì Ci divertiamo insieme Praticamente Quando ci vediamo Quasi tutti i giorni Lei vuole sempre giocare Sempre giocare O guardare i cartoni O cerco di Richieste di regalini Richieste di regalini Anche sì Sicuramente Sicuramente Anche richieste di regalini E' proprio l'esercito di lunga vita Questi nipoti Anche la foresta del Marganai Sarà una delle tappe Della giornata Noi la foresta Organizzata dall'ente foreste Della Sardegna Domenica 18 ottobre Sarà una giornata All'insegna dell'ospitalità E dell'accoglienza Per i visitatori Della foresta E soprattutto Sarà dedicata Ai bambini Accompagnati Dalle proprie famiglie Una giornata Per scoprire Osservare E sentire Più vicina La natura Per informazioni E descrizioni Contattare 346 21 40 68 Oppure Scrivere a Noi la foresta Chiocciola Enteforeste Sardegna Punto it Prosegue Presso La saletta Del portico Vicino al teatro Centrale di Carbonia La manifestazione artistica 12 per 12 Il nuovo appuntamento E con la mostra Di ramazioni Infiniti percorsi Di Barbara Cappella Che sarà inaugurata Domani Sabato 3 ottobre Alle ore 18 La mostra Sarà poi visitabile Sino a venerdì 9 ottobre Tutti i giorni Dalle 18 Alle 20 La prossima esposizione In previsione Nel calendario Coinvolgerà L'artista Nicola Obbino Il nostro Tg Termina qui Vi ringrazio Per averci seguito Vi do appuntamento Alle prossime edizioni E adesso Le previsioni meteo E il Tg in sardo Noas in curso Previsioni per domani Sabato 3 ottobre Cielo poco nuvoloso Vento da sud-sud-est Con intensità di 20 km orari Raffiche fino a 30 km orari Temperature minime Comprese tra 13 e 17 gradi E massime comprese Tra 23 e 27 gradi Part 2 Di 조 patt Automobile Crear Vento Grazie a tutti Grazie a tutti ViTrasta What are we We're 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 Grazie a tutti